tanta guagna per tutti ragazzi sono bavo88 e oggi in questo video voglio mostrare 3 easter egg in the order 1886 una top 3 il gioco è fuori da poco però ho già trovato qualcosa da mostrarvi il primo si trova qua nel capitolo 1 salendo le scale possiamo notare a destra o a sinistra delle locandine con la scritta kratos cycles ride like a god va in giro come un dio ovviamente è riferito a kratos di god of four il motivo è che ready addon è lo sviluppatore di the order ha curato anche lo sviluppo di due episodi di god of four su psp ghost sparta e genuf olimpus quindi hanno voluto rendere omaggio a due suoi giochi passati inoltre possiamo trovare queste locandine anche sparsi per tutta la città tutta la mappa però questo è il primo punto in cui le possiamo notare allora andiamo avanti con il secondo easter egg che si trova all'interno del capitolo 3 dentro questa stanza ed è impossibile da mancare perché davanti a noi apparirà un'icona per raccoglierlo andiamo a raccoglierlo e notiamo che è il famoso sac boy di the big planet un'altra esclusiva di sony a cui gli sviluppatori di ready addon hanno voluto rendere omaggio andiamo ad agitarlo un po' a ispezionarlo però comunque si vede chiaramente che è il sac boy di the big planet questo è un altro easter egg all'interno di the order e adesso andiamo a vedere il terzo e ultimo easter egg del video l'ultima cosa che voglio mostrarvi oggi ragazzi si tratta di un riferimento piuttosto che un easter egg infatti all'interno del capitolo 3 quando arriveremo ad un bordello noteremo una foto raffigurante una donna su un tavolino raccogliendola e girandola noteremo che il suo nome sarà zelda ovviamente possiamo interpretarlo come un riferimento o un easter egg alla notte serie nintendo legend of zelda però il tutto è da vedere ragazzi quindi lasciatemi tanti commenti qui sotto ditemi cosa ne pensate e ditemi se questo potrebbe essere un easter egg oppure no inoltre vi invito a lasciare tanti commenti al video e di supportare la serie che sta facendo mischio sul canale con questo è tutto se trovo altri easter egg ve li mostro molto volentieri un saluto ciao ciao